Ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati con il canale youtube Io sono C29 e oggi siamo qui, trovati di nuovo nel mio canale, in questo nuovo video, nuovo contenuto Per parlare di una bomba di calcio mercato, a dir poco spaziale, a dir poco pazzesca Siamo qui come avete visto la copertina, avete letto il titolo, come potreste anche aver immaginato Siamo qui per parlare di Lazar, Samartic, ebbene si ragazzi, perché dopo l'ultimo video che avevo fatto su Samartic Più o meno a ottobre, novembre, ottobre, torno qui con un nuovo video su Samartic E che video di Samartic, perché da quello che filtra in queste ore l'accordo è veramente molto molto vicino Prima di iniziare però ragazzi, vi ricordo come al solito lasciate il massimo supporto Iscrivetevi tutti quanti, perché dobbiamo arrivare ai 400 iscritti il prima possibile Quindi iscrivetevi, lasciate tutti quanti like, mi raccomando Sostenete il canale con il like, che è tutto ovviamente gratuito E poi attivate la campiglia delle notifiche per far sì che resterete aggiornati su ogni contenuto che pubblicherò Allora ragazzi, oggi siamo qui in questo video che diciamo che non era tanto programmato Perché ieri è uscito il post partita di Juventus, la versione di Coppa Italia Se ancora non l'avete visto vi lascio il link qui in alto nelle schede Vi invito ad andare a recuperarvelo ovviamente Il consueto post partita della partita di Coppa Italia Ma oggi non voglio parlare di campo, voglio parlare soltanto di calcio mercato Perché ieri, giovedì 11, è iniziata a uscire, è iniziata a circolare la notizia di un possibile approdo di Lazar Samaric alla Juventus E già qui la notizia sembrava super clamorosa perché fino a pochissimo fa si diceva che Samaric aveva l'accordo col Napoli Ed era vero perché c'erano già tutti gli accordi Samaric era praticamente un nuovo calciatore del Napoli Soltanto che poi fra De Laurentiis e il padre agente di Samaric non sono riuscito a trovare un accordo sullo stipendio, sui diritti di immagine Tutte quelle robe lì insomma sui soldi, solite robe su cui De Laurentiis è un po' una testa dura, una testa calda diciamo così Non si è trovato d'accordo, la Juventus con Giuntoli, pam, si è inserita nella trattativa E che dire, è un calciatore che la Juventus segue da tempo e che Giuntoli segue da tempo Perché da quello che sappiamo noi, che ci raccontano i giornali Cristiano Giuntoli segue questo calciatore da veramente molto molto tempo Lo segue già da quando era a Napoli E quindi capite bene che conosce bene il calciatore, ecco diciamo così E insomma si sta inserendo Hanno detto che ieri pomeriggio una delegazione dell'Udinese era a Torino per provare a chiudere l'affare Per parlare comunque dell'affare Che il padre di Samaric era in Italia per trovare una nuova sistemazione E certo come la Juventus Giuntoli abbia trovato l'accordo con il padre agente di Samaric Abbia trovato già l'accordo contrattuale La volontà di Samaric è chiara, è quella di andare via dall'Udinese subito già a gennaio E' quella di venire alla Juventus E la volontà della Juventus ovviamente è quella di prendere Samaric Si dovrebbe essere, si sta parlando, i giornalisti stanno scrivendo di un prestito Con diritto che potrebbe diventare obbligo di riscatto Fissato più o meno sui 16 milioni, 16 milioni e mezzo E sarebbe un affare clamoroso Perché io lo farei subito Perché Samaric è un giocatore di cui io sono innamorato Sono veramente innamorato Lo seguo da veramente diverso tempo E' un giocatore che ammiro Ve ne avevo già parlato in diverse occasioni in estate E come vi ho detto già, come vi ho detto prima Ve ne avevo già parlato anche a ottobre e novembre Ho parlato di una trattativa fra l'Avimento e l'Udinese E comunque quindi sarebbe un colpo che approverei Sarei, sono, anzi no sarei Sono già adesso veramente molto molto gasato Già ieri quando sono arrivato a casa a scuola che mi sono ritrovata la notizia Mi sono gasato molto In più se questa notizia dovesse diventare ufficialità E sembra da quello che ci stanno raccontando che siamo molto vicini Io godrei e non poco E la cosa che mi fa gasare ancora di più E' che questa notizia è stata confermata da Nico Schira E' stata confermata da Matteo Moretto E' stata confermata da Romeo Gresti Quindi capite che se viene confermata da questi tre giornalisti E vi ho detto solo questi tre giornalisti Potreste essere qui a citarne un sacco Capite bene che la notizia è qualcosa di reale Ed è qualcosa che arriva da una fonte Affidabile, delle fonte affidabili Quindi detto questo ragazzi Io sono molto gasato Sarei veramente molto molto contento di un approdo di Samartic Alla Juventus, lì a centrocampo E' un affare che mi dà le vibes Diciamo così Di Vlaovic 2.0 Mi dà molto le vibes di Vlaovic 2.0 Vedremo se arriverà E se dovesse arrivare come si comporterà Adesso non ci resta che attendere E sperare bene Io il prossimo video su Samartic Lo farò nelle prossime ore, nei prossimi giorni Quando avremo più notizie a riguardo Quando magari perché no Arriverà anche l'ufficialita E niente ragazzi Detto questo io vi saluto Vi ringrazio per la visione di questo contenuto Vi ricordo come sempre Like, iscrizione Attivate il campione delle notifiche Noi ci vediamo nei prossimi giorni Con un nuovo contenuto fino alla fine Forza Loeventus E incrociamo le dita Perché Samartic è molto ma molto vicino Ciao ragazzi Un saluto Bella